Che cos'è questo? Cara Andrea, questo è l'Anduia. Molti nostri clienti ci chiedono che cos'è l'Anduia, adesso vi lo facciamo vedere in tv che cos'è l'Anduia. È un tipico, anzi il tipico salame calabrese, nel budello col peperoncino. Uno spettacolo. L'Anduia 3 è il terzo locale del gruppo L'Anduia. Siamo a Piazza Antonio Meucci, zona Magliana, Marconi. Ma guarda, noi proponiamo ovviamente la cucina tipica calabrese e non, anche perché non tutti magari crediscono il piccantino. I piatti pasti sono basati ovviamente su prodotti calabresi, con i salami, gli insaccati, la soppressata, l'Anduia ovviamente perché è la parte principale, più i vari sottoglio e prodotti tipici della zona. I primi piatti? Piatti sempre base a Anduia, Andrea. Più se vuoi un bucatino amatriciano ce l'abbiamo, un tornello cacio e pepe, i nostri chef sono molto bravi. Quanto riguarda le pizze? Le pizze all'Anduia. No, la margherita con l'Anduia è buonissima. Ovviamente la margherita classica, la Napoli. Abbiamo 47 tipi di pizze doc. Che tipo di cottura? Cottura forno a legna. Ne ripeto, abbiamo sempre due forni a legna, per le pizze e per le focacce. Carni prettamente cannetanese, argentina. Ogni tanto se ci riusciamo a quella vera, la chianina, infatti informiamo i clienti più appetitosi che abbiamo la chianina. Per quanto riguarda invece i dolci? Dolci, produzione nostra. Niente polverine, niente surrogati, latte, uova, zucchero e via dicendo. Cosa troviamo di particolare nei dolci? Dolci, quello che noi di solito va più per la maggiore, è la sbriciolata. C'è una crema chantilly con mille foglie, la cioccolata, pericolosi. Poi il tiramisù, cran caramel, la panna cotta. Quali sono le novità dell'inverno del Nanduia? Le novità principali dell'inverno? Uno, abbiamo finalmente il nostro parcheggio. Quindi se voi volete venirci a trovare, potete tranquillamente parcheggiare nel nostro parcheggio privato. Andate tranquilli, scendete, parcheggiate e venite a mangiare da noi. Cantina di vini? Cantina di vini, la Calabria, terra di vini, Ciro. Ciro, dell'azienda di Brandi, Polito, Lento, ne abbiamo a Iosa, chi piace. Ma anche a Chianti, anche a Chianti classico. L'Nanduia è un locale piuttosto ampio, comodo. E in più abbiamo anche una sala privata, per chi vuole una cena tra pochi intime, anzi non tanti intime, che è una sala di 50-60 posti. Però è facilmente opzionabile per chi vuole, ce l'abbiamo. Poi un'altra cosina che abbiamo per i calciofili. Abbiamo finalmente le partite, Champions League e campionato. Quando volete chiamateci, prenotateci, facciamo un po' di dife insieme. Piazza Antonio Mucci 10, zona Magliana-Marconi, facilmente raggiungibile dall'Euro. Ci arrivate in due minuti da questo punto. Un invito ai tre spettatori. Un invito ai tre spettatori, proponiamo, grazie soprattutto alla piacevolezza di Andrea, a chi si presenta con la deciduta movita, 10% di sconto. Grazie a tutti.